e saluti ragazzi sono il resto della gente dello scorso video vi ho fatto vedere come scaricare scp compagno oggi vi farò vedere come dove come scaricare minecraft senza avere la licenza tutti sanno come si fa però io ho trovato apk sub andiamo a scrivere scarica minecraft come la 1.pe minecraft pe 1. come l'ultima opzione la 1. dimmi dalla 1.15.1 se c'è ci vorrà permetterlo perchè non so che si va provo a far vedere ora c'è il punto siamo punto 2 punto 2 punto 51 quella che ho io buon questa capirà apk sub che sarà quella ideale per farlo scaricare già già con la licenza se volete vi faccio vedere come mettere anche quella lì che avete tutto sbloccato spingete il primo o il secondo o il terzo vi dirà di start download che sarà il download io aspetterò che si apre un attimo che se non mi appare perchè non sono particolarmente handicappata io spingo a nulla perchè l'ho già installato ciao ciao mio dio alle vi fate paura l'avrete già installato e come entrerete mi farà così non vi dirà di fare niente di niente di niente voi però sapete come la 1.13 alcune volte mi fa accedere al vostro il vostro live voi siete a bon fortune ok questa qui c'ha di tutto più nero se mettevi la moda c'è di tutto 1 2 3 ah io ho fatto male vediamo che si apri perchè ci vuole un pochettino e io ho la versione 4.0 so che è è per la 9.0 siamo quasi a buon punto per avere sul mio cellulare e vi aprirà così se vuoi io sono già accesso c'ho la frasca indistinguo perchè non so perchè c'ho le risorse la macchina che non va questo qui va e il pacchetto del testo si ok questo qui è tutto ok cosa è successo Ale 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 mi si è cancellata di nuovo la skin finalmente dai ok perchè sono tutti la che busco i ragazzi che è ok Ale ciao ok abbiamo finito voi potete giocare anche in compagnia nei server che andranno come le prigione e di nuovo ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.